20th lesson. How to make great brownies. Come fare degli ottimi brownies. How do you make such good brownies, Bob? Come ti vengono brownie così buoni, Bob? Do you really want to know how I bake my delicious fudge brownies? Vuoi davvero sapere come faccio i miei deliziosi brownie fudge al fudge? Yes, Bob. How do your brownies come out so moist? Sì, Bob. Com'è che i tuoi brownie ti vengono fuori così morbidi? I don't think you really want to know how. Non penso che tu voglia saperlo davvero. Then why are your brownies so good? Allora perché i tuoi brownie sono così buoni? Well, if you really want to know, beh, veramente se vuoi proprio saperlo. Yes? Sì? I buy them in the bakery section of the stand market for 69 cents a piece. Li compro nel reparto pasticceria dello stand market per 69 centesimi.